La testimonianza di padre Mussi Zerai, candidato al premio Nobel per la pace del 2015, per il suo impegno nella difesa dei diritti umani, ha offerto uno dei momenti più emozionanti della undicesima edizione del premio per la cultura mediterranea. Quando la cultura, l'identità viene indebolita e sopraggiunge o viene soprafatto dalla paura e fa scatenare poi o reazione di difesa oppure anche di intolleranza verso l'altro. Gremito il Teatro Vendano per la cerimonia di consegna dei riconoscimenti condotta da Lorena Bianchetti e assegnati da una giuria internazionale di altissimo livello presieduta da Mario Bozzo, presidente della Fondazione Carical. Il modo migliore per aprire un dialogo con culture diverse è quello di abbandonare la presunzione di partire da posizioni di superiorità. Tra i premiati, l'ex magistrato, oggi scrittore Gianrico Carofiglio, nella sezione narrativa ed il cantautore Niccolò Agliardi, la cui opera prima è stata votata da una giuria composta da 400 studenti di istituti calabresi e lucani. Premio speciale della Fondazione alla giornalista Anna Rosa Macri e all'architetto Pietro Laureano, Carlo Saccone, si è giudicato la sezione traduzione. Il filologo Luciano Canfora ha vinto il premio per la sezione scienze dell'uomo, mentre il riconoscimento per la sezione cultura dell'informazione è stato consegnato al presidente emerito dell'Accademia della Crusca e linguista Francesco Sabatini. L'ex ministro della cooperazione internazionale e l'integrazione, Andrea Riccardi, è stato premiato per la sezione società civile. Il mondo globale ha bisogno di molta cultura per capire quello che succede, altrimenti in questo nostro tempo emozionale ci facciamo prendere da noi stessi, ci facciamo prendere dalle paure, sogniamo muri laddove sono impossibili, perché i muri fanno morire e le culture creano ponti. Salvatore Bruno per la C News 24